we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi patch 9.20 finalmente disponibile per il download un sacco di novità tante cose rimosse tante cose inserite ma alle mie spalle lo vedete ragazzi la cosa fondamentale il nuovo oggetto in versione tempesta ragazzi è un oggetto da lancio che esplode all'impatto quindi una granata e crea una zona vuota di forma sferica questo vuol dire ragazzi che questa sfera si sovrappone alla tempesta e se siamo inghiottiti da questa noi possiamo lanciarla per creare appunto una zona non intaccata dura 20 secondi l'effetto prima di dissolversi e l'inversione della tempesta infligge la stessa quantità di danni dell'attuale tempesta quindi ragazzi tanta tanta roba un gameplay che viene stravolto con l'inserimento di questa nuova granata rarità epica e si rilascia solamente in gruppi da uno ma porca di quella porca mandano ragazzi in magazzino il fucile da caccia arrivato oramai più di un anno fa in una delle patch della season 3 una delle prime patch della season 3 tenuto per tantissimo tempo e purtroppo adesso mandato a casa io sono completamente contrario al togliere il fucile da caccia piuttosto toglimi quello schifo di fucili semiautomatico ma il caccia tienimelo modifiche anche per quanto riguarda i trasportatori di bottino quindi i drop extra che si vedono nelle parti della mappa designate in giallo hanno come si dice ridotto la disponibilità nei pacchetti delle armi esplosive dal 12,5 per cento al 7,4 e hanno ridotto la possibilità di trovare fucili di precisione sempre dal 12,5 per cento all'8,45 hanno modificato anche la torretta ragazzi quella che si pianta giù in poche parole hanno prolungato il tempo di surriscaldamento del 20 per cento quindi nerf alla torretta e hanno anche aumentato l'aumento hanno anche aumentato il tempo massimo di ricarica dell'arco esplosivo avevano detto che ci sarebbe stato un nerf anche per l'arco esplosivo mi aspettavo qualcosa di più soprattutto relativo ai danni ma in realtà adesso ci vuole 1,25 secondi invece che un secondo per ricaricarlo adesso i giocatori rianimati in un furgone di riavvio perderanno l'invulnerabilità se sparano o costruiscono quindi ragazzi attenzione se vi restano e voi buildate o sparate non siete più immuni per quella manciata di secondi ai danni meno pericolosi anche i condotti d'aria in questo modo ragazzi impediscono i danni da caduta quanto i giocatori saltano sopra di questi in un luogo elevato quindi un po più facile probabilmente prendere i condotti un sacco di bug corretti ragazzi hanno risolto un problema dove le armi che avevano esaurito le munizioni non riuscivano più poi a ricaricarsi automaticamente questo succedeva ad esempio con l'rpg hanno risolto un problema dove i giocatori subivano danno da caduta anche se uscivano soprattutto quando uscivano velocemente da una girosfera che rotolava in discesa sempre mi è accaduto anche questo ed effettivamente prendevi un danno assurdo da adesso non è più possibile utilizzare la mira assistita per sparare ai giocatori che utilizzano le bombe ombra quindi ragazzi gg anche a me succedeva che mi prendevano quando ero sotto l'effetto della bomba ombra fixato anche questo bug modificati anche risolti anche i problemi per quello che riguarda i drift board dove non si riusciva ad uscire da un drift board durante un'onda d'urto quindi gg anche per questo pistola a focile adesso meno imprevedibile nell'abbattere bersagli quindi in poche parole hanno migliorato un po anche la mira della pistola a focile e l'effetto visivo di rimbalzo sulla lava da adesso non persiste più se una girosfera rimbalza al di fuori quindi non abbiamo più l'effetto della lava nonostante noi non ci siamo più adesso arriva anche la nuova ltm scontro all'arma bianca i forzieri del tesoro contengono armi epiche o addirittura leggendarie e di tanto in tanto persino un infinity blade affronta i tuoi avversari per scoprire chi è degno di quella di quell'arma e chi no quindi torna anche la infinity blade ragazzi grandi modifiche anche per quanto riguarda invece il gameplay hanno aumentato la durata del tempo in cui l'ultimo giocatore che infligge danno può ricevere i crediti per l'eliminazione in poche parole i danni da caduta sono stati modificati da 15 secondi a 60 secondi l'auto eliminazione da 15 secondi a 60 secondi e l'eliminazione tempesta da 5 secondi a 60 secondi questo serve anche soprattutto per i tornei modificate anche le info sull'impostazione inverti comando velivolo in questo modo si riesce a capire meglio se qualcuno volesse modificare la guidabilità dei velivoli che tra l'altro momentaneamente non sono più disponibili ma probabilmente torneranno ragazzi hanno corretto anche altri bug per quanto riguarda i giocatori che al di fuori delle strutture nemiche non riescono più costruire all'interno di esse nonostante abbattiamo i muri questi sono bug che si ripercuotono soprattutto negli end game quando c'è un bel macello alcuni fort bite che richiedono un oggetto estetico specifico ora si sbloccano correttamente per i giocatori che lo hanno equipaggiato soprattutto per chi ad esempio non riusciva a prendere il fort bite utilizzando il backpack di kyo quindi adesso ragazzi risolto anche quello grandissime e incredibili modifiche anche per quanto riguarda il nostro gioco sulla versione mobile da adesso hanno inserito la guarigione rapida consente di utilizzare più facilmente i consumabili per scudi e salute quando il valore di scudi o di salute scende sotto a 100 apparirà direttamente sullo schermo il pulsante di guarigione rapida quindi siete molto più comodi adesso per guarirvi nonostante prima non lo foste l'icona del pulsante mostra gli attuali oggetti prioritari nell'inventario del giocatore adesso è suddiviso con priorità 1 il barile da bevute priorità 2 oggetti per la salute e poi gli scudi priorità 3 i medici prima delle bende priorità 4 se gli scudi sono inferiori a 50 scudi piccoli e priorità 5 se gli scudi sono superiori o uguali a 50 hanno aggiunto anche un pulsante x che sarebbe esci poche parole per chiudere varie schermate in cui il pulsante chiudi era troppo piccolo quindi un sacco di sistemazioni davvero anche per la versione del mobile hanno messo una risoluzione incredibile di bug ve ne dico un paio hanno risolto un problema per cui era possibile interagire con porte e zipline anche da distanze molto lunghe hanno risolto un problema con cui i nomi di una squadra eliminata rimanevano sotto al giocatore osservato ma ce ne sono molti molti altri hanno modificato anche le icone dello standardo l'hanno aumentata aggiornata da 256 per 256 a 512 per 512 in battle royale hanno modificato 17 tipi di grafica di grandi dimensioni quindi aspettatevi di vedere degli oggetti magari che non avete mai visto probabilmente sono solamente oggetti d'ambiente per quanto riguarda l'interfaccia utente ragazzi hanno aggiunto la possibilità di annullare un nuovo acquisto nel negozio di fortnite subito dopo aver effettuato un nuovo acquisto avrai per un tempo limitatissimo la possibilità di annullarlo purché tu rimanga sulla schermata di acquisto dopo aver annullato un acquisto non potrai più annullare quello stesso acquisto per un certo periodo potrai però annullare senza problemi altri nuovi acquisti quindi ragazzi acquistate ma se non lo volete non muovetevi da quella schermata per poterli appunto rimborsare la funzionalità di annullamento segue gli stessi requisiti di idoneità ricche delle richieste di reso quindi potete ridare le moti deltaplani gli strumenti di raccolta i dorsi decorativi costumi le coperture e la musica ovviamente non potete restituire v-back regali pass battaglia livelli del pass battaglia pacchetti fondatori eccetera 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 un sacco di modifiche anche per la modalità creativa hanno inserito i trasmettitori e ricevitori quindi scatena l'esplosione con una moneta fate calare una barriera quando il giocatore colpisce un bersaglio e molto altro ancora hanno inserito il dispositivo tempesta quindi potete scatenare la potenza della tempesta per gioco per sfidare i giocatori fino al limite ed inserito anche il tema pueblo quindi gerusalemme per come la chiamiamo noi hanno aggiunto molte molte molti prefabbricati in modo da migliorare e abbellire le vostre isole ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo patch notes mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live più tardi alle 13 e 30 14 seguite instagram per tutti i leaks ciao ciao